Sì, è una settimana importante, come tutti gli altri. Questa è l'ultima finale, l'ultima partita, che può decidere tante cose. Possiamo dire che è una settimana molto importante. Allaniamoci, come abbiamo fatto sempre, con attenzione, intensità e concentrazione. Speriamo di arrivare domenica, e arrivaremo sicuramente domenica, pronto per la partita. Sì, così siamo abituati all'anarci con questa intensità e agonismo. Ma è importante la nostra forza di concentrazione che abbiamo. Sappiamo che abbiamo avanti da noi una squadra molto forte del campionato. Prepariamo meglio per arrivare in 100% di condizioni per fare questa partita. Questa è una situazione dove noi siamo concentrati solo di noi. Pensiamo solo a noi, perché non possiamo dire che non dipende da noi, non dipende da altri. L'importante è fare la nostra partita, pensare a fare le migliori per noi. Alla fine vediamo come va, che ci sia. Ma l'importante è vincere, perché se pensiamo agli altri non cambia niente. L'importante è fare cosa? Fate bene? Pensare a noi? Andare a fare la nostra partita? Sì, sto vivendo un momento importante personalmente, ma questo non mi passa per la testa, perché io sono 100% concentrato su quello che è il nostro obiettivo collettivo, che è la salvezza. Nel momento sto pensando solo a fare il miglior possibile per la squadra, come abbiamo fatto sempre, di portare a casa punti che noi servono per raggiungere il nostro obiettivo. Io sono molto molto felice e contento per questa opportunità di rappresentare il mio paese. è un sogno che sto vivendo, è un sogno da criança, è un sogno da bambino, di avere questa opportunità di andare a rappresentare la nazionale. Io sono molto molto soddisfatto e contento per questa opportunità. Io ringrazio tutta la squadra, perché abbiamo lavorato tantissimo per questa, per arrivare a un certo livello. Sono molto soddisfatto per fare parte di questa squadra, che mi dà sempre sostegno. Qui dentro è una famiglia che stiamo vivendo qua, e io sono molto soddisfatto per fare parte di questa famiglia.